Puoi sentirti solo pur avendo tanti amici. Se c'è una cosa che molti non vogliono guardare e non vogliono quindi notare per quanto riguarda la quantità di amici è che la quantità non è utile. Cioè io posso anche avere tanti tantissimi amici ma sentirmi solo pur avendo la quantità e non la qualità. Quel che conta infatti dell'amicizia è la qualità e non la quantità. Perché ripeto un essere umano se volesse potrebbe avere anche infiniti amici. Io ho 20, io ho 30 amici. Quante volte sentiamo dalla bocca dei nostri conoscenti, amici, frasi del genere, no? In genere si dice ciò per darsi delle arie, per non apparire degli sfigati, no? Noi sentiamo questa frase spesso e volentieri proprio perché non riusciamo a dire la verità. Cioè mentiamo in primis a noi stessi e in segundis agli altri. In questo modo riusciamo a fare bella figura. E gli altri hanno, vanno ad avere una importante considerazione di noi. Ecco, lasciatemi dire che ciò è una cosa che vado a considerare come fottutamente sbagliata. Perché sbagliata? Per quale ragione? Per quale motivo? Perché noi dovremmo essere tranquilli e sereni con noi stessi e con gli altri e non dovremmo andare a metterci nella condizione di reputare importante, nonché fondamentale, il giudizio altrui. Ok? Ma detto questo, torniamo all'argomento di oggi. Tanti amici e magari ti senti solo. Io sono convinto che tra i miei iscritti di YouTube, ormai sono rivolgivato a quasi 3.000 iscritti e di ciò ringrazio in primis il Cerbero Podcast, in segundis i temi che vado a trattare. Stavo dicendo, scusate la tosse, che ci sarà qualcuno in questi quasi 3.000 iscritti che magari ha molti amici, ma che purtroppo, nonostante abbia tanti amici, si sente da solo. Quindi ha magari una quantità elevata, cospicua di amicizie, e ne può avere anche 12, 13 o 14, azzardo a dire, però, pur avendo questa elevata quantità di amici, si sente solo come un cane. Ok? Proprio perché nella compagnia non riesce a vivere serenamente, non riesce a stare bene. E proprio perché queste stesse risorse umane non vanno a dare, non vanno a trasmettere a quella stessa persona, a quello stesso essere umano, lo stesso grado di compagnia che in teoria, e che solo in teoria, all'apparenza dovrebbe esserci. Questo che significa? Che tu ti puoi sentire contento, soddisfatto, felice, avendo di facciata 20, 40, 50 amici, che poi sono numeri assurdi, no? Perché io penso che nessuno abbia 30 o 40 amici. Però, pur avendo questi 40, 30 amici, tu ti senta fottutamente solo. Questo perché? Per quale motivo? È molto semplice. Perché, in buona sostanza, quegli stessi amici non sono di compagnia, non ascoltano, non ti sono vicini, e non seguono quelle che sono le tue istanze, i tuoi giudizi, i pareri e ve li seguito. Questo si tramuta, quindi, di fatto, de facto, in una situazione in cui abbiamo un essere umano che non riesce a stare bene e non riesce, pur avendo, ripeto per la centesima volta, una gran quantità di amici, a sentirsi in piena compagnia. Ma si sentirà solo come un cane. Ok? Questo perché? Perché, ripeto nuovamente, tutto parte da una condizione umana in cui quegli stessi altri esseri umani non vanno a mostrare vicinanza, tenacia, carattere, voglia di rivalsa, voglia di dibattito, di colloquio, di confronto con quello stesso amico o con quella stessa amica, ma se ne stanno per i cazzi loro. Ok? Devo essere diretto, devo utilizzare mio malgrado un linguaggio colorito, perché certe cose io ve le devo spiattellare in bocca, ve le devo spiattellare in faccia, ve le devo far vedere, ve le devo rendere note e il modo migliore per farlo, visto e considerato che non ho esseri umani presenti in loco con me, è quello di dirvi certe cose utilizzando un linguaggio burbero, schifoso, negativo, triste, diretto, duro, va bene? E certe cose vanno dette, vanno dette, Dio buono, buon Dio, Cristo santo, ok? Quindi, riassumendo brevemente, noi abbiamo voglia di stare con gli altri e quando magari abbiamo tanta compagnia e pensiamo di avere tanti amici, in realtà ci sentiamo soli come dei cani, proprio perché quegli stessi amici che abbiamo, quella gran quantità, non fanno la qualità, non fa la qualità. Quantità, non qualità. La qualità è fondamentale, prima la qualità e poi la quantità. Io ragiono così, ma io sono l'ultimo arrivato, ma io sono l'ultima, chiamiamola pelina, del carro ed io esplico, trasmetto il mio punto di vista alla mia opinione. Un'opinione che non pretende di essere giudicata come vera, ma che pretende però di essere trasmessa, diffusa. Da Leandro, conoscitore italiano è tutto, iscrivetevi, commentate, una buona serata a voi.